Buongiorno a tutti da casafacilifelicio.org Oggi vediamo come si pulisce la zucca lunga. Ci occorrono soltanto un pela patate e un coltello. Faremo in questo modo. Se la zucca è molto lunga, come questa, la tagliremo a metà per maneggiarla più agevolmente. Con il pela patate togliamo tutta la buccia in questo modo. Quando l'avremo sbucciata la tagliamo a metà. Con il coltello togliete tutti i semi in questo modo. Fate in modo che resti solo la polpa esterna. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Le grosse vanno tagliate in pezzi di mezzo centimetro circa, una volta che le avrete tagliate in fette, in pezzetti, lavateli, asciugateli e passateli in padella con un peperoncino piccante, uno spicchio d'aglio, un paio di cucchiai di olio di oliva e qualche pomodorino se piace. Quelli più piccoli invece si possono fare anche ripieni, preparare un ripieno a piacere e dopo tagliarle in barchette in questo modo e sbollentarle e passarle nel forno con il loro ripieno. Per queste ed altre ricette vi aspettiamo sul nostro sito casafacilefelice.org Arrivederci alla prossima preparazione!